Sono l'istruttore di una scuola di arti marziali che si chiama Yoshinryu, noi siamo qui nella zona della circoscrizione 10 dal 2000 e abbiamo il nostro corso in strada Castello di Mirafiori 55, Ciro ci ha fatto la cortesia di permetterci di lasciare qui i nostri volantini, sono sui tavolini, faremo una dimostrazione di un'arte marziale che si chiama Juta i Jutsu, il Juta i Jutsu è un'arte marziale tradizionale, questo vuol dire che non ci sono gare e vuol dire anche che se ci sono delle forme di combattimento non sono rivolte sicuramente alla violenza piuttosto che allo scontro fisico, ma c'è sempre un ragionamento legato alla conoscenza dei propri limiti, delle proprie caratteristiche e delle proprie capacità e possibilità. Quindi chiunque di voi sia interessato a questo genere di discorso può venire a trovarci e quindi chiunque di voi sia interessato a questo tipo di discorso può venire a iniziare e quindi chiunque di voi sia interessato a questo tipo di discorso può venire a iniziare ehi! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.